benvenuto a bologna ci racconti con che spirito arrivi qui inizia per te un'avventura molto importante con questa nuova maglia grazie mille sono arrivato qua soprattutto per giocare fare titolare sono molto contento che sono arrivato a una grande società come come bologna ho parlato già con mister mi ha caricato moltissimo e spero che quest'anno faremo tutti insieme è una grande stagione abbiamo imparato a conoscerti soprattutto con la maglia dell'empoli quando da avversario ci resti anche molti dispiaceri quando ci incontrammo sì ho fatto fatto credo credo che ho fatto due anni due anni buoni a empoli anche se secondo anno siamo recessi poi sono tornato a roma facevo facevo il secondo di di alison credo che adesso miglior portiere del uno del miglior potere al mondo però ho fatto questa scelta venire qua ho tantissima voglia di giocare fare fare protagonista come stavo facendo a empoli e per diventare magari anche protagonista con la polonia che in questi giorni senza di te si sta giocando il mondiale sì sì stavo praticamente stavo con loro mi sono fatto piccolo piccolo infortunio ma già già sto benissimo e non vedo l'ora che iniziamo